Sparisce il bar del liceo scientifico musicale Marconi. L'istituto superiore del campus rinuncia al suo ormai storico punto di ristoro per ricavare tre nuove aule, quelle che mancano all'appello dell'attuale demografia scolastica, quelle che consentiranno di evitare una migrazione di studenti fuori istituto. Migrazione già scongiurata anni fa attraverso l'utilizzo delle aule container. Sparisce il bar, arrivano le aule ma è già corsa contro il tempo per completare il lavoro e entro la prima campanella dell'anno scolastico fissata per il 13 settembre. Quella del Marconi è solo una delle varie matasse ingarbugliate fra le mani dell'amministrazione provinciale, che deve ancora trovare una soluzione al vicino Bramante Genga, che ha esaurito gli spazi interni ma che ha ancora necessità di tre aule e di un laboratorio e confida che l'ente provinciale li ricavi sempre all'interno del campus. Mancano due aule anche alla Gallo Cecchi e le ricaverà a distanza di qualche centinaio di metri all'interno dell'ufficio scolastico provinciale. Un risico di spostamenti a due settimane dalla prima campanella sull'anno scolastico 2023-2024.